Nella mattinata di martedì il Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi ha approvato un ordine del giorno sulla scuola domenicale online, un progetto che è stato avviato nello scorso anno scolastico e che con grande soddisfazione e grande anche fiducia verso il futuro è stato riconfermato anche per il futuro. Ne parliamo con la responsabile, la passora Ulrike e Jourdan per raccontare un po' come è andata l'esperienza di questo primo anno un po' sperimentale di scuola domenicale online e quali sono le prospettive per il nuovo anno, se ci saranno dei cambiamenti o se si continua con questa formula. Quindi come è andato quest'anno e come si è svolta questa scuola domenicale online? Questo anno a mio avviso è andato bene anche, anche molto bene, un gruppo piccolo di bambine e bambini, dieci, già un pochino più grande, già ragazzi che si sono messi insieme. In teoria c'era la mia idea di fare due gruppi, un gruppo più per la fascia dei medi della scuola domenicale che è da sette a dieci anni e poi un altro gruppo per la fascia dei grandi da undici a tredici anni. Alla fine abbiamo messo tutti insieme perché quasi tutti erano già un pochino più grandi. Mi è piaciuto che il gruppo è stato molto stabile, si sono presentati con una grandissima puntualità, ci siamo sempre incontrati giovedì sera alle 18.30, dalle 18.30 e erano puntualissimi su Zoom, sempre con il materiale pronto e questo mi è già piaciuto tanto, di vedere che loro ci tenevano a venire alla scuola domenicale. Ho scritto ogni settimana ai genitori un whatsapp quale materiale devono preparare, ciò che di solito fa la monitrice della scuola domenicale. Per questo i genitori avevano molto più di lavoro e talvolta ho anche delle idee un po' stravaganti che cosa si potrebbe fare. Così abbiamo lavorato con la Creta, abbiamo seminato delle cose prima di Pasqua ed è stato veramente molto bello le cose che abbiamo potuto fare lì insieme anche online. Il dubbio poteva essere che questa modalità online non fosse tanto adatta per i bambini, per noi abbiamo imparato a usarla nella pandemia e per gli adulti ha funzionato in un certo modo, poi abbiamo raggiunto un livello di saturazione per cui abbiamo detto basta incontri online e vogliamo incontrarci in presenza. Invece la tua esperienza come è stata rispetto ai ragazzini? È così che questo non è tanto adatto ai bambini. La domanda è qual è l'alternativa? Mia figlia mi ha detto subito mamma se fai questo non farti venire in mente che io devo partecipare. No! Ed è giusto così. Se tu hai la possibilità di andare in una scuola domenicale in presenza, vai! È sempre la scelta migliore. Io propongo questa scuola domenicale online a bambini che non hanno la scelta dove la scelta è o farlo online o non aver niente e in quel momento sono molto convinta che fa bene a bambini e ragazzi di avere uno spazio dove possono parlare dei loro pensieri, della loro fede, dei loro dubbi. Quest'anno con la guerra ma quante volte abbiamo parlato della guerra? E con chi puoi parlare? Sì, ne parli un pochino in scuola, sì, ma il di più che abbiamo noi che possiamo anche pregare e portare così i nostri pensieri, la nostra pesantezza di portarlo anche a Dio, metterlo nelle sue mani. Per me questo è qualcosa di importante e di poter parlare di questi temi insieme, di portarli davanti a Dio, penso che questo è importante, avere anche un luogo fuori dalla famiglia dove si può parlare di queste cose, un luogo sicuro e i ragazzi sono riusciti a fare gruppo, anche se non si sono mai visti e forse non si vedranno mai di persona, perché vivono veramente lontani. Ci sono ragazzi tra la Francia e la Sicilia che è effettivamente lontano per incontrarsi, però avevo l'impressione di vedere che si vogliono bene, che chiedevano ma com'è andato questo da te, uno ha traslocato nel frattempo, ma facci vedere un po' la tua stanza, un po' queste cose e l'ho trovato molto bello. Quindi questo gruppo che si è creato in questo anno proseguirà il lavoro insieme? Ci sono delle aggiunte? Vediamo, adesso ci sarà di nuovo la nuova iscrizione e vediamo chi ha voglia di proseguire, forse c'è qualcuno che andrà più verso il catechismo. Noi abbiamo anche discusso nel corpo pastorale se è il caso di attivare un catechismo online e la commissione catechismo, gruppo di lavoro per il catechismo, lavorerà nel prossimo anno per guardare tutte le schede di catechismo e fare una scelta che cosa si può fare online, che cosa funziona, che cosa meglio o no, fare un programma su un catechismo di due anni che si può svolgere online, ma questo non inizierà subito, ma probabilmente nel settembre-ottobre del 25. Invece i vostri incontri hanno già un calendario previsto, poi per partecipare come si fa per iscriversi? C'è l'iscrizione da me al mio indirizzo e-mail, poi ci incontriamo una volta a fine settembre con i genitori per capire il giorno e l'orario che può funzionare e inizio ottobre iniziamo con incontri settimanali che vanno fino alla fine della scuola, fino a fine maggio. Per il resto è un po' come una scuola domenicale normale, noi seguiamo il programma del servizio istruzione ed educazione con tutti i temi che vengono affrontati anche nelle altre scuole domenicali, abbiamo persino fatto la recida di Natale che abbiamo fatto online e fatto la registrazione, messo poi ancora dentro video che avevano girato i ragazzi dei interventi musicali loro e questo l'abbiamo mandato a tutte le famiglie per vedere insieme. Io l'ho trovato molto carino, anche se proprio in quella sera la connessione non era tanto buona e ci ha fatto un po' di problemi ma i ragazzi si sono comunque travestiti e abbiamo fatto la nostra recita anche così, che bello. Bello, quindi l'invito è a iscriversi, si può iscrivere chiunque, cioè devono essere bambini delle chiese, battisti, metodisti e valdesi o è aperto a chiunque? Per me si può iscrivere chiunque che ha voglia di seguire una scuola domenicale e sì, è un appuntamento regolare un po' come abbiamo i nostri altri incontri che facciamo durante la settimana, non è consigliato di venire una volta e poi due volte no, ma di esserci regolamente, ma ognuno che è interessato può iscriversi. Io prendo poi contatto con chiese nella vicinanza, se c'è una chiesa vicina chiamo lì, informo la pastora, consiglio di chiesa, con cistoro che c'è questo bambino che sta seguendo scuola domenicale e chiedo anche di rivolgersi a questo bambino. Se forse c'è una festa organizzata, festa per bambini, di invitare perché c'è la speranza che forse anche a più distanza talvolta possono fare anche degli incontri di presenza, però questo è difficile. Sì, è una rete che a volte ha delle maglie molto larghe, quindi è anche difficile poi unire i punti. Anche perché non dipende solo dai ragazzi, dipende anche dai genitori. E' complicato, però il primo passo è stato fatto, adesso siete ben avviati sul secondo e quindi non ci resta che farvi gli auguri per il prossimo anno e buona scuola domenicale. Grazie!